Una rondine non fa primavera, ma la spesa per le pulizie del cambio di stagione la faccio da acqua e sapone. Siete pronti? Seguitemi! Per rinnovare e ravvivare i colori dei tuoi capi c'è Superiride con le linee di tintura in polvere tutto in 1 e 100%. Le trovi entrambe a 3,49 euro. Dai una seconda vita ai tuoi capi con un risultato uniforme di lunga durata. E per proteggere i colori durante il lavaggio c'è il Cattura Colori Super 5. Il formato da 60 fogli è a 2,75 euro. Per la cura quotidiana dei tuoi capelli affidati a Biopoint. La maschera per capelli Extreme Repair è a 9,90 euro e l'Air Booster a 12,90 euro. Per un trattamento completo prova anche lo shampoo Extreme Repair a 7,50 euro. E se lo dà acqua e sapone con ogni trattamento Air Care Biopoint in regalo la maschera liquida Dream Water. Bene, ho preso tutto. Le pulizie di primavera mi costeranno le solite 12 fatiche di Ercole, ma grazie ad acqua e sapone tutti i prodotti necessari mi costano pochissimo. Acqua e sapone oltre la convenienza.